Sì, la gara passa tutto, non soltanto la gara, anzi è un doppio anno. Ci ho mandato un messaggio ora a Susanna e a Marco, che è con i figli vicino a lui, ci ringrazia. Dove cura tutto il tempo, nessun problema, non ci sono problemi. In questo momento non ci sono problemi in tempo, assolutamente. Credo che San Giovanni Sportivo e San Giovanni, lo sport in generale, abbia perso oggi un gigante. Una persona corretta, una persona seria, una persona pace e soprattutto un amico. Un amico di tutti i nomi. Grazie. Grazie.